Allora, il nostro messaggio per il tutto della piattaformazione. Il nostro ambiente è importante per noi, non solo a livello locale, ma anche a livello globale, di tutto il mondo. Oggi è il momento di concentrarci sull'ambiente. Facciamo questa russi speciale su una migliaia di studenti, famiglie e insegnanti del mondo. Piantiamo al pericolo oggi al nostro, su, destre e overste del mondo. I bambini, i bambini, i ragazzi e i ragazzi, in oltre 100 pesi, stanno piantando alberi con noi. Gli alberi che verranno piantati, questi giorni sono inclusi come parte della grande campagna di Eno, una rete scolastica e comunitaria per lo sviluppo sostenibile. Oggi celebriamo anche la giornata internazionale della biodiversità biologica. Il slogan è le nostre soluzioni per la lavoratura. Costruendo la speranza, la solidarietà e l'importanza di lavorare insieme a tutti i livelli per percorrere un futuro di vita e di armonia con la natura. L'albero è un simbolo per noi. Innanzitutto, si ricorda la natura e l'importanza della protezione del film e dell'ambiente. In secondo luogo, simbolo è la nostra cooperazione tra le scuole e le persone del film e l'ambiente. Viviamo un futuro diverso e apprezziamo le loro richieste. Risprezziamo i diritti di tutti, anche della natura e degli animali. Contrassegniamo questi alberi come alberi della pace e cresciamo insieme ai nostri alberi verso un futuro migliore. Bravo! Bravo! Bravissimo! Grazie a tutti!